Grazie 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 Prego Presidente Grazie Grazie C'era uno C'era un cretino Non so di dove Un raccomando Facciamo qualche piston No Sorniamo sempre insieme No 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 Ma No 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 Grazie. 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 Presidente, una foto. No, non so che... Prego. 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 Prego signori avanti a sinistra, grazie. Prego signori avanti, vediamoci a sinistra, grazie. Adesso, ci spazio. È fatto, Carlo. Guardi anche lo sfuggali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.